In considerazione dell'indicazione di Papa Francesco, che ha chiesto che il prossimo anno santo sia preparato attraverso la rivisitazione dei temi fondamentali delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II, perché la Chiesa possa respirare di nuovo quel profondo e attuale insegnamento, il Vicariato per la Formazione Permanente del Clero ha promosso quattro appuntamenti di approfondimento e formazione, a cui sono invitati laici, persone consacrate, presbiteri e diaconi. Incontri in quattro città della Diocesi su altrettanti temi offerti dalla Gaudium e Spes, il rapporto della Chiesa con il mondo, il rapporto fra dialogo e annuncio, l'affermazione dell'uomo come via alla Chiesa, il discernimento dei segni dei tempi, momenti a cui è sempre presente l'Arcivescovo e così si è svolto il primo appuntamento presso la Casa dell'Economia a Lecco. Aperto dal responsabile della Formazione Permanente, Monsignor Ivano Varagussa, alla presenza anche del Vicario Episcopale per la zona pastorale terza, Lecco, Monsignor Gianni Cesena, relatore della serata Fratel Saverio Cannistrà, carmelitano, dottore in teologia dogmatica, che ha approfondito il tema, nuove vie che si aprono verso la verità, in riferimento a Gaudium Spes 44, ciò che la Chiesa impara dal mondo. Il cammino di preparazione ai quattro incontri è riniziato con il peregrinaggio a Concesio dei Vescovi di Lombardia, svoltosi il 28 settembre scorso, con la relazione del professor Gilles Goutier sul tema portare in sé l'eredità della Gaudium Spes. Nella storia mutevole del mondo c'è una storia che rimane e ne costituisce il fondamento e questo solo può essere oggetto di fede, ed è quella di Gesù di Nazareth. E questo è quello che ha detto Gaudium Spes in un passo secondo me importantissimo, al numero 10, da dove dice la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta stanno realtà immutabili. Esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi, nei secoli. Senza naturalmente dimenticare di confrontarsi però con la storia degli uomini. Quando si parla di lettura di segni dei tempi, più che di contenuti particolari, specifici, si sta parlando di un metodo di comprensione della realtà storica e insieme della verità rivelata. Cioè non si tratta di individuare quali eventi oggi, per esempio, possano essere considerati segni dei tempi, no? Ma piuttosto di un metodo sapienziale di interpretazione della storia, di un punto di vista, ecco, sulla storia che procede dalla relazione con il padre, dall'esperienza del Dio vivo, vero, provvidente, direbbe appunto Giovanni XXIII. E la fede e ancora di più la carità e la speranza, e non la sociologia o la geopolitica, che ci consente di riconoscere i segni dei tempi, direi ancora più la carità e la speranza, e ce li fa accogliere come segnali che ci indicano il cammino e ci aiutano a riconoscere il bene e il vero in luoghi dove non eravamo abituati a cercarlo. Tre le parole indicate dall'Arcivescovo per sottolineare l'importanza e la modernità della Gaudium et Spes. Ci possono essere tre parole, ecco, con cui vorrei concludere. La prima è simpatia. Il Papa Paolo VI, concludendo il Concilio Vaticano II, diceva che tra Chiesa e mondo è nata come una simpatia. Quindi vuol dire provostima, mi sembra meritevole di attenzione, di compassione, di condivisione il mio vicino di casa, il mio collega di lavoro e in generale il mondo. Simpatia. La seconda cosa, secondo me, è l'ardore. Cioè noi abbiamo dentro un fuoco che vorrebbe accendere anche gli altri. E la terza parola è la responsabilità. Cioè il cristiano ha una responsabilità verso gli altri.